Ragazzi buongiorno a tutti bentornati su Crypto Salad io sono Federico oggi 31 agosto 2022 quindi l'ultimo giorno del mese guardiamo insieme la situazione come Bitcoin si avvicina al mese di settembre cosa è successo negli ultimi giorni guardiamo diversi time frame commentiamo il funding rate commentiamo il dollaro e anche qualche dato on chain quindi come al solito se vi sembra interessante lasciate un mi piace iscrivetevi al canale cliccate la campanella per le notifiche lasciate i vostri messaggi ragazzi commentavamo insieme negli ultimi episodi la possibilità che Bitcoin a seguito di questo breakdown quindi avendo violato i livelli orizzontali di supporto del mese sarebbe plausibilmente andato a finire al supporto numero uno del mese quindi S1 del mese di agosto così effettivamente è stato siamo andati due volte sia qualche giorno fa ma anche nella serata di ieri siamo scesi al di sotto dei 20.000 in particolare proprio in prossimità di questo livello che si trova a 19.800 dollari quindi il primo target ribassista del mese che si sta avviando al termine è stato raggiunto la situazione non rimane particolarmente brillante per Bitcoin sarebbe interessante vedere una reazione del prezzo proprio in prossimità dell'inizio del mese di settembre per vedere come il prezzo si posizionerà con riferimento ai nuovi livelli del mese di settembre che guarderemo insieme nella giornata di domani quindi per adesso Bitcoin sul time frame giornaliero rimane al di sotto dei livelli del mese e al di sotto delle medie mobili del William Alligator che vedete qui rappresentate sul grafico vi ricordo che la zona di bottom che per adesso Bitcoin ha fatto quindi più o meno in zona 19.200 rappresenta per adesso un triplo minimo che è stato fatto direi tra il 19 giugno 2022 e il 13 luglio 2022 quindi questo comunque rappresenta un higher low sul grafico guardiamo poi insieme il time frame delle 4 ore voglio mostrarvi una cosa interessante intanto la divergenza che c'è sul time frame delle 4 ore vedete che c'è un low un lower low mentre la RSI crea un higher low con una evidente divergenza tra prezzo indicatore divergenza rialzista e poi potenzialmente ovviamente ragazzi si tratta sempre solo e sempre di possibilità questo potrebbe essere un cuneo discendente quindi una formazione che vede nella maggior parte dei casi la violazione della resistenza vedete tre punti di contatto in resistenza e un target rialzista che rappresenta un ritorno all'ingresso del falling wedge quindi intorno ai 24.900 dollari quindi se bitcoin dovesse violare la resistenza potremmo assistere ad un interessante pump nulla vieta che bitcoin vada di nuovo a ritestare la trend line invece di supporto guardiamo ragazzi poi il funding rate interessante vedere la importante negatività che c'è stata sul mercato negli scorsi giorni che si riflette anche nelle posizioni che hanno i trader sul mercato pesantemente in short vedete che il funding rate è pesantemente negativo negativo negli ultimi giorni questo vuol dire che ci sono tante posizioni short aperte questo vuol dire che se il prezzo dovesse salire potremmo assistere ad uno short squeeze che potrebbe fornire benzina ulteriore al pump di bitcoin ovviamente se dovessimo vedere dei rialzi potrebbe esserci della benzina per vedere effettivamente un interessante scatto in avanti da parte di bitcoin vediamo poi il dollaro quindi il DXY DXY che continua a mettere in difficoltà tutti i risk asset quindi sia bitcoin le crypto ma anche i titoli azionari logicamente c'è in questo momento la nostra parabola ascendente che sta continuando a segnare supporto per il prezzo del DXY che inevitabilmente prima o poi sarà destinata a essere violata fatto salvo che il dollaro si muova in maniera verticale e come volevo farvi notare forse anche qualche episodio fa ci sono delle importanti divergenze qua siamo sul weekly quindi settimanale abbiamo il prezzo vedete che fa degli IRI 3 IRI mentre l'RSI sta facendo sta mettendo a segno 3 lower I quindi anche qui pian pianino logicamente time frame settimanale quindi ci vorrà un po' di tempo per spiegare i suoi effetti ma pian pianino si sta esaurendo la forza rialzista del dollaro che potrebbe favorire nel medio termine i risk asset poi ragazzi guardando i dati on chain glass node abbiamo qui questo indicatore si chiama net unrealized profit and loss nuple sostanzialmente questo indicatore ti dice qual è il rapporto che c'è tra unrealized profit quindi i profitti non realizzati e unrealized loss le perdite non realizzate a seconda che la bilancia si sposta da una parte all'altra siamo in una fase di euforia quindi quando tutti sono in grande profitto siamo in una fase di euforia quando tutti sono in grave perdita siamo in una fase di capitolazione e in questo momento ragazzi siamo come nei precedenti bottom vedete qui a destra in una fase di capitolazione quindi abbiamo questo indicatore che mostra una grande quantità di unrealized loss questo vuol dire che una buona parte della circulating supply di bitcoin mi sembra all'incirca il 50% in questo momento è in unrealized loss comunque è in perdita di conseguenza potremmo essere vicini a un bottom la mia opinione logicamente che è qui per essere smentita è che il bottom sia già stato raggiunto ormai a metà giugno scorso intorno ai 17.007 quindi questo è un sarà credo un higher low eventualmente con una divergenza su diversi indicatori comunque in questo momento se zoomiamo vediamo che ci troviamo proprio in una fase di capitolazione solitamente un buon punto per andare ad accumulare bitcoin ragazzi per oggi è tutto fatemi sapere cosa ne pensate date un'occhiata anche per fare la link in descrizione noi ci vediamo al prossimo episodio ciao